Buonasera a tutti, stasera presentiamo Greco Fiano Aglianico dell'azienda Canonico Essantoli. Facciamo un abbinamento con i pianti, con un polico all'insalata, con patate, olive di gaeta e un po' di prezzimolo. Per quanto riguarda il rosso abbiamo preparato delle bruschette con ricotta salata, miele e granella di nocciole, accompagnato sempre con della soppressata paesana del Cilento e dei formaggi stagionali. Spero che la serata andrà bene e complimenti all'azienda di nuovo al programma.